Ben ritrovati dalla redazione di news24.city Puglia, ballottaggi, landella, trionfa, foggia ma è dominio del centro-sinistra, a potenza Mario Guarente, il primo sindaco leghista del sud. Genova dalla Crociera, nel Mediterraneo, al carcere 33enne Brindisino, arrestato per rapina, in manette anche i due fratelli, complici nel colpo ad ufficio postale. Bologna, auto della polizia contro uno scooter portapizza, muore 51enne Foggiano, tragedia ieri sera nel capologo emiliano, lievemente feriti i due agenti. Foggia, maxitamponamento sulla 14 tra 5 auto e un pullman diversi, i feriti, ingenti danni ai mezzi, sul posto soccorsi e polizia stradale. Canosa, bomba d'un bar in via Balilla, ingenti danni e tanta paura è accaduto dopo la mezzanotte, Ordigno piazzato in bagno. Puglia, basket Sansevero, batte palestrine e ha un passo dalla 2, calcio il Biceglie perde i rigori con la Lucchese e retrocede in serie B. Grazie a tutti.